E noi abbiamo iniziato la prima puntata di Splendida Cornice con un premio Oscar, Nicola Piovani, che ancora ringrazio. E ora per finire in bellezza ne abbiamo chiamati addirittura due di premi Oscar. Diamo il benvenuto alla coppia di scenografi che il mondo ci invidia, Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti. Grazie, grazie di essere qui. Allora, voi avete vinto tre premi Oscar, siete in due in casa, quindi ne avete sei, giusto? Certo. Ecco, l'ho chiesto a molti dei miei ospiti, dovete nessero i premi. Voi dove li avete riposti? Nelle mensole dell'Ikea. È bello perché anche in America ce l'ha chiesto. Quando abbiamo detto nel mensole dell'Ikea si sono molto divertiti. Sì, ma anche io sono molto stupita, devo dire. Non avrei mai immaginato. L'hai messo le dell'Ikea, però vuol dire che in casa vostra c'è qualcosa che c'è nella casa di ognuno di noi. Eh beh, ma c'è. Beh, certo. È anche perché... Quello che ci mettono il sapone, l'olio, le cose. E voi i premi Oscar. E se noi i premi Oscar, perché... Che differenza c'è tra la casa di due premi Oscar e una casa altrui? Cioè, ci sono altri oggetti più particolari? Ma la cosa che noi usiamo a fare, li spostiamo gli oggetti. Cioè, dopo un po', pure l'arredamento. Ma lei cambia anche la posizione dei mobili? Sì. Lei? Sì, sì. Lei è la redattrice. Sì, dalle volte, per esempio, non so, sposto un divano, sposto una specchiera. Mette il bagno alle grado. O dei quadri. Sì. Io sposto, spesso la pasta, gli spaghetti, le cose, così. E lei si arrabbia perché vuole che io sia sempre a dieta. Io gli dico che sono a dieta e in realtà io mangio di nascosto. Mi alzo la mattina prima e allora mangio di nascosto. Poi, mentre lei ancora dorme, io mi rimetto a letto. Così e rimangio la seconda volta perché... Cioè, lei fa la prima colazione di nascosto da sua moglie? Sì, e poi faccio l'altra colazione insieme a lei. Per cui io ne faccio due e lei ne fa una. Ma adesso lo sa, Francesca. In questo momento lo so. Adesso, Dante. Esatto. Vabbè, ma lo sa perché? Perché siamo venuti da un posto dove abbiamo mangiato un po', insomma, abbiamo bevuto così, e allora siamo un po' allegri. Cioè, lei è ubriaco, mi sta dicendo. No. È la nuova frontiera dell'intervista. No, abbiamo mangiato in un posto meraviglioso giapponese dove abbiamo bevuto la birra, solamente che credono abbiamo bevuto una botte. Quanto era? Perché durante la settimana del fuoristalone, in effetti, qui a Milano, ci sono degli eventi straordinari, dove si mangia pochissimo e malissimo, ma si beve tantissimo. Quindi la nuova frontiera è intervistare premi Oscar ubriachi, un format a cui sto lavorando. Noi, non è che si mangia tantissimo, si beve tantissimo. Noi facciamo tutte e due le cose insieme perché pare brutto, perché sennò magari il mangiare si offende con il bere. No, ma certo, lei distribuisce le sue attenzioni sia al mondo del bere che al mondo del mangiare. Ma certo. Io lo faccio per gli altri, mica per me. Stavassandir, che altruismo. Quindi voi sul cibo, litigate un po' sul cibo perché lei mangia di nascosto, ma siete una coppia che lavora insieme da quanti anni? 40. 40 e invece avete fatto due facce diverse, eh? Percepiti? Percepiti? 40 anni. Percepiti? Per? Percepiti? Pipura. Percepiti, cioè quanti ne sente lei? Io? No, io... Io in realtà ho lavorato, sì, 40 anni, no, io ho 55 anni più viva, per cui ho lavorato, sì, sì, 40 anni perché ho cominciato, avevo 17 anni, 17 anni. Ma è un evento fortissimo questo a cui siete stati. Ci voglio andare anche io. È una roba buona. Allora, voi, Francesca, scusate, faccio una domanda a Francesca, perché poi tra l'altro non è Francesca lo schiavo Ferretti, è lei che è Dante Ferretti lo schiavo, l'ha detto lei, eh? Quando l'ho detto? Eh, una volta che non beveva, che non aveva bevuto. Io, 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 io non lo dico mai, io non lo dico mai, io lo sono. Francesca, una delle cose più complicate è quando si lavora insieme e si è una coppia, questo in qualsiasi ambiente professionale. È vero. Ecco, quando si usa addirittura la creatività, i pensieri, quindi non c'è un modo giusto, un modo sbagliato di fare le cose, ma ce n'è mille giusti e mille sbagliati, voi avete dichiarato di fare sempre tutto all'unanimità, è vero? No, no, allora guarda, io ho cominciato con lui che era contrarissimo, non volevo assolutamente che io cominciassi a lavorare nello stesso film con lui, anche se, diciamo, io come sono caporeparto, sede decorretto, arredatore per gli Stati Uniti, sede decorretto, per cui ho la mia, la mia troupe, la mia, diciamo, i miei falegnami, i miei scultori, i miei assistenti, quindi, diciamo, ho un'autonomia. Però lui non voleva, perché diceva, io facevo prima l'arredamento per le case, e allora lui diceva, no, tu continua là perché deve venire a fare il cinema, insomma così. Io invece poi l'ho voluto fare, Geppi, anche perché lui partiva sempre, per cui, bene o male, avevamo due vite un po' separate. Allora io ho detto, ma proviamo a fare l'arredamento nel cinema. E devo dire che i primi anni non sono stati facili, perché lui non mi presentava nemmeno i registi. Dante? Sì, è vero, è vero, non mi presentava, perché non voleva, lui aveva questo atteggiamento duro nei miei confronti. Eh, ma l'ha perso, guardi, glielo dico, si vede a occhio nudo. Non ci crede. Ma poi, invece, è successo che, mano a mano, voglio dire, lavoro dopo lavoro, si è reso conto che non solo poteva fidarsi. Ma poi è successo un'alchimia in tutto questo, perché noi che siamo stati litigiosi nelle piccole cose, però ta, 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 nella vita, diciamo, anche... Sul mangiare. Non è successo. Non è successo. Normale. Se non è per mi stare un cuoco. No, per una ragione. Perché lei... No, mi fai finire. Sì, ti faccio finire. L'unica cosa volevo dire, siccome lei mi ha messo a dieta... Ma perché la ama. No, ma perché so grasso. Ma guardi, Dante, sua moglie lo fa per amore, perché la vuole che lei stia in salute. È vero, è vero. E lei mangia di nascosto. Dante è sbagliato. Sembra un altro programma. Io... Non so se questo è il programma giusto, però io devo dire che amo moltissimo mia moglie. Anche quando... Anche... Sì, che il programma giusto. Anche quanto litighiamo, noi siamo sposati da 50 anni. Allora, Geppi mi ha fatto una domanda, se me la fai rispondere. Ho capito qual è il segreto. Vada, Francesca. Allora, qual è? Che a un certo punto, come un'alchimia, noi sul lavoro non abbiamo mai... Quando poi, voglio dire, c'è stato una... Mai litigato. Mai. Mentre nella vita, al di là del lavoro... Continuate. Nel lavoro, mai. Io vado da una parte, lui dall'altra... E poi, stranamente, quando siamo poi che il set si compone, c'è una... Come posso dire? Un incastro perfetto. Un incastro. Un incastro e quindi lui si fida, io mi fido, insomma. Ma questo incastro nasce da un'affinità, secondo voi, di gusto o di una diversità? Sicuramente. Penso di sì. E invece, nel filmato precedente alla vostra presentazione abbiamo visto il lavoro di uno di noi, del nostro Alessandro Arcodia, che per queste 13 puntate ha raccontato i vernissage, le overture dei musei, gli opening, come dicono qua a Milano. E quindi molti di voi ci hanno chiesto di vedere in faccia Alessandro Arcodia, che in realtà si vedeva in realtà in faccia, ma oggi Alessandro Arcodia è qui! Alessandro, grazie per il tuo contributo a questo programmino e quindi anche tu, da esperto dell'osservazione degli oggetti, hai una domanda per due premi Oscar? Ho notato che è dal 1990 che non fate un film in Italia. Mi chiedo, vi considerate dei cervelli in fuga? E che a un certo punto ci hanno chiamato gli americani e noi a questo punto siamo andati. Siamo andati e poi da là, film dopo film, è stato un po' un susseguirsi, una catena, eccetera. Quello che ci dispiace però invece, Gepi, è che invece qui in Italia i registi, che insomma abbiamo dei bravissimi registi, lo vediamo a Cannes, che sono stati scelti parecchi di loro. Anche adesso a Cannes andranno molti registi italiani. Ecco, ancora adesso siamo chiamati, per esempio, da questo regista americano con cui Dante ha fatto l'ultimo film, io non l'ho fatto, ma l'ha fatto lui, sempre registi americani. Gli italiani, no, non ci chiamano. Finito una settimana fa. No, ma dico, gli italiani, seguo quello che dice. Cioè l'ultimo italiano che vi ha chiamato, come dice Alessandro Arcodia, chi è stato? L'ultimo italiano che ci ha chiamato. Fellini. Perché dopo Fellini, l'ultimo con Fellini, abbiamo fatto il nome della rosa. La voce della luce. L'ultimo è la voce della luna. La una della... Poi abbiamo fatto... Poi... No, un momento, un po' dopo abbiamo fatto... No, un momento stupendo questo, prego. La voce della luce è diventata... No, 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 no. Anche la luna fa la sua luce. Ma secondo lei è una contraddizione. Guardi, lei vuole dire quello che vuole. No. Io devo dire una cosa. La prego. Fondamentale. Io non mi ricordo più niente. E ma guardi, si vede. Cioè, è un chiarimento superfluo. C'è un... Sul computer una cosa si chiama... Wikipia? No. Wikipia. Imdb. Ah, imdb. Vabbè, il sito americano. C'è un sito americano dove uno legge lì e mette il proprio nome e dice, non so, Francesca Lossiavo oppure Dante Ferretti e escono fuori tutti i film. Tutte le cose, il database. Io ho fatto, da lì, mi sono accorto che ho fatto 95 film. Il mio primo film è come scenografo e Medea di Pasolini. Però già ne avevo fatti tre. Io in totale ne ho fatti nove con Pasolini. I primi tre l'avevo fatti come assistente alla re, assistente scenografo. Ma che ci fate con tutta questa roba qui? Perché? Per ricordarle il suo lavoro? Io? Meno male, avete visto, io non mi ricordo niente. Lei ha fatto con Fellini, Ginger e Fred. Che differenza c'è però? Volevo chiederle, visto che lei ha fatto un film con Fellini che parodiava la televisione che ancora stava arrivando. Guardi, nemmeno le FBI fanno tutte queste interrogazioni. Ma ragione, ma ragione. Ascolti, infatti, generando una spesa pari al PIL dell'Ictestein, perché abbiamo dovuto assicurare questo preziosissimo classico. Non lo faccio vedere. Come non lo faccio vedere? È talmente piccolo, non si vede niente. Ma mi faccia fare la Bruno Vespa italiana. Si avvicini lei. Non lo posso toccare, non lo posso spostare. Guardi, nemmeno io. Ma l'ha fatto lei? Sì, no, non è che io l'ho fatto. Io l'ho fatto fare ai miei collaboratori. Io l'ho pensato. Lo so, ma non mi sembra poco. Lei ha pensato, ci descriva questo oggetto. È una parola. Gangs of New York è un film di Scorsese che abbiamo fatto tutto, tutto, tutto a Cinecittà. Succede così che noi stavamo tutti e due a Venezia con Scorsese e Armani a vedere un documentario che aveva fatto Scorsese sul cinema italiano. Allora, siccome lui si muoveva sempre da povero col suo aereo privato, allora abbiamo... Armani o Martin? Martin. Allora abbiamo detto, Martin, senti, dal momento che adesso ritorni a New York, perché non ti fermi un attimo da Ciampino? Ci lasci e così noi andiamo a casa e tu prosegui. Ma si può dare un passaggio in aereo lei? Sì, in aereo. Ma non si è mai sentito questo aneddoto? Scusi, eh. Allora che cosa è successo? Siamo arrivati, ho chiamato un ristorante lì vicino che si chiama La Cascina. Ho detto, Martin, al momento che sta qui mi andiamo a mangiare, sono le 12 e mezza, c'è un ristorante dove si mangia benissimo, così. Ho detto, vabbè, andiamo. e La Cascina stava di fronte proprio a Cinecittà. Allora io nel frattempo che avevo fatto, avevo telefonato a Cinecittà, ho detto, guarda, era domenica, non fate, votate a Cinecittà, lasciate uno con le chiavi che mi apre perché io voglio portare Scorsese dentro. E io gli ho fatto, gli ho detto, Martin, ma perché vuoi fare questo film? A New York. dove non c'è più Five Points e non ci stanno i teatri di posa, non c'è questo. Facciamo la Cinecittà. Soprattutto, la cosa più importante, è che c'è un ristorante dove si mangia da Dio. Io volevo chiedere a Francesca, prima di lasciarci, se ci può commentare la nostra scenografia. Qua stiamo subaffittando, questi ragazzi li sgomberiamo un attimo perché sono abusivi. Questo angolo... Come? Perché sono bellissimi, perché danno la musica. Sono meravigliosi. Come il pubblico? Guarda, che è uno studio stupendo. Grazie. Se lo dice lei, io invece direi che l'annunciatrice è un po' così. L'annunciatrice? Per il resto, invece, mi pare che va bene. Signore e signori, buonanotte a questo punto perché Nina direttamente è la notizia del mattino. Grazie, grazie a Francesca Dalloschiavo, grazie a Dante Ferretti. Adesso si può addormentare.